Sono Maria Vittoria e oggi vado a fare la spesa a negozio del mio papà. Mi piace scegliere da solo i prodottini, ma non so mai decidermi. Alcuni sono profumati come caramelle, che mi vuole voglia di mangiarle. Poi il mio papà gli mette in una busta di carta riciclata. Mi ha detto che dobbiamo cambiare le vecchie abitudini se vogliamo fare la differenza. Anche se sono ancora piccola, voglio aiutare il mio papà a salvare il nostro futuro e quello dei pesciolini. Possiamo fare tutti la differenza.